Il Taranto che dimostra temperamento torna al successo battendo al termine di una gara spigolosa La Versa con il risultato di 2-1, partita giocata per gran parte in inferiorità numerica dai Rosso-Blu per l'occasione in maglia bianca per l'espulsione di Aquadro dopo poco più di mezz'ora di gioco Andiamo alla cronaca, dopo soli 6 minuti la formazione ionica si fa pericolosissima Proprio Aquadro lavora un gran pallone sulla destra, mette in mezzo per Santerpia che di testa timbra la traversa E il preludio al gol che giunge 10 minuti più tardi Azione simile, questa volta però è Guaita che serve l'assist per il giovane, Juniors numero 11 Che trova lo spazio giusto per battere Papa, il pallone supera la riga fatale nonostante il disperato tentativo di Cassandro Taranto 1 a Versa 0 La reazione granata non si fa attendere Al trentatresimo c'è una palla gol proprio sui piedi di Cassandro Il terzino piazzato sul secondo palo sugli sviluppi di un calcio d'angolo manda da buona posizione sul fondo Al trentasettesimo l'episodio che cambia il match viene espulso a quadro per doppia munizione Al trentanovesimo altra occasionissima per i campani Chianese ha la palla buona per il pari ma la spedisce alta Matute entra in campo a tre minuti dalla fine per sostituire Guaita e il Taranto si mette con il 4-3-2 Nella ripresa c'è Boccia al posto di Sceo, c'è subito un tiro di Matute sul fondo Poi un colpo di testa di Simonetti dall'altra parte alto al diciannovesimo e raddoppio Traversione di Marsili su palla inattiva, colpo di testa di Rizzo che segna così il suo primo gol in maglia rosso-blu ed è 2-0 La partita viene riaperta al trentacinquesimo dalla Juniores Mariani che mette il pallone in fondo alla rete alla spalla e disposito Nei minuti di recupero due espulsioni, una per parte Cassandro nella versa e Diabì per il Taranto entrambi per doppia munizione Grazie a tutti